Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha recentemente firmato un decreto per destinare 39 milioni di euro alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Questo contributo finanziario è stato considerato fondamentale per sostenere coloro che operano nel settore turistico, in quanto svolgono un ruolo di vitale importanza nel facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta tra gli operatori turistici e i viaggiatori. Il Ministro Santanchè ha sottolineato l'importanza di queste aziende, poiché svolgono un ruolo strategico nel rendere l'ecosistema turistico italiano altamente competitivo. Grazie alla loro notevole competenza e approfondita conoscenza dei territori, essi contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale e le eccellenze uniche della nazione. Santanchè, inoltre, ha espresso soddisfazione per il fatto che gli sforzi del Ministero nel garantire i sostegni in collaborazione con le associazioni di categoria abbiano finalmente portato all'assegnazione di queste risorse. Questo finanziamento mira a sostenere anche il comparto del turismo organizzato, permettendo alle agenzie di viaggio e ai tour operator di esprimere al meglio le loro professionalità, I termini e le modalità per presentare le domande di accesso a questo contributo saranno comunicati in modo chiaro e trasparente sul sito ufficiale del Ministero del Turismo, insieme al link per accedere alla piattaforma informatica dedicata alla gestione delle richieste. In questo modo si garantirà una corretta distribuzione delle risorse e si faciliterà il processo di richiesta del contributo da parte degli operatori del settore turistico.